Io stringo sui saluti dicendo che questa Conf SL ha voluto essere un momento di messa in rete, di mettere insieme i pezzi, perché il software libero ha creato un movimento che si è poi esplicitato negli ambiti dell'università, della pubblica amministrazione, della scuola, delle aziende e della community. Qui ha generato una ricchezza e ha contribuito anche al discorso su contenuti aperti, contenuti non solo fruibili ma integrabili da tutti. Quindi abbiamo voluto dare una sintesi, mettere insieme questi pezzi, portando qui ad Ancona, grazie al lavoro del team e dei partner, due chinozzi internazionali che conoscete, Tristan Nitot di Mozilla, portavoce europeo, e Stefano Zacchiroli. Abbiamo interventi da Mozilla e Google sulla qualità del software, abbiamo la presenza dei moschettieri italiani del software libero, a me piace definirli così, Angelo Raffaele Meo, Renzo Davoli, Maurizio Napoletano, Flavia Marzano e Alessandro Rubini, che purtroppo ci ha comunicato ieri che non poteva più venire. Abbiamo 49 articoli, abbiamo quindi contenuti e abbiamo fatto un lavoro di comunicazione e di contatto molto diretto dai vari gruppi, infatti abbiamo contattati più di 200. Quindi io nel darvi il benvenuto a Ancona, nel chiedervi un po' di pazienza per i disguidi organizzativi, e vi auguro una buona conferenza, spero che i lavori siano produttivi e che questa giornata qui insieme contribuisca a mettere insieme i pezzi per iniziare a vedere un puzzle composto in cui ogni tessera acquista un suo senso e contribuisce a un quadro generale molto importante. Diamo il via ai lavori, passo la parola a Luca Spalazzi, professor Luca Spalazzi, che ci fa un breve saluto dall'università e iniziamo. Grazie. Grazie Luca, mi associo alla sua soddisfazione, che è anche la mia, per essersi finalmente realizzato questo sogno di poter ospitare qui Conf.sl, poter finalmente parlare sul software libero. Qui a Ancona ci sono stati in passato anche altri momenti, altri eventi, che hanno portato all'attenzione questo argomento. argomento, lasciatemi dire, che ultimamente sta diventando sempre più attuale in un periodo di crisi economica, un periodo in cui si parla di taglia alla spesa pubblica, parlare di software libero, di implicazioni anche economiche, come può far ripartire, come può dare un contributo a far ripartire l'economia italiana, come può dare un contributo a tagliare spesi inutili, direi che è un argomento molto importante. Nell'associarmi ai ringraziamenti a tutti quelli che hanno collaborato, permettetemi personalmente di ringraziare anche l'associazione dei dottorandi, dei dottori di ricerca italiani, la sezione di Ancona in particolare, che si è molto spesa e sta anche adesso lavorando dietro le quinte per rendere tutto questo possibile. Per non far ritardare ulteriormente gli inizi dei lavori, concludo qui il mio saluto. Grazie ancora a tutti quanti e buona conferenza. Solo due parole per presentarmi. Sono Pier Giovanna Grossi, sono un'archeologa, non sono un'informatica, ci tengo a precisarlo perché il software libero non è solo per gli informatici, ma viene usato anche in altri contesti. Ho un contratto di collaborazione all'Università di Verona e un contratto di collaborazione all'Università di Zurigo e da tantissimi anni mi occupo anche di didattica. Ho iniziato a usare il software libero per lavoro e l'ho utilizzato poi per didattica, contentissima e contentissimi anche i miei studenti perché molti di loro poi hanno continuato, una volta uscite dall'Università, a utilizzarlo per lavoro. Quindi ecco, sono qui per seguire la sessione scuola perché sono molto interessata all'argomento. Io non ho volutamente preparato alcuna slide per questa mia introduzione perché non volevo dare peso a un progetto piuttosto che a un altro. In Italia ci sono tantissime iniziative che stanno nascendo nelle scuole, tantissimi progetti diversi sui libri di testo, sugli strumenti di lavoro e citarne qui solo alcuni era forse anche sbagliato perché si rischiava di dare più peso ad alcuni piuttosto che ad altri. Voglio qui citare soltanto due iniziative. Una è Didattica Aperta, è un convegno annuale nato nel 2010 che vuole un po' raggruppare le esperienze nelle scuole su software libero e contenuti aperti. Per due anni si è svolto a Verona, da quest'anno comincia a diventare un convegno itinerante sullo stile della Conf SL e del Grass Meeting e di tutti i convegni incentrati sul software libero. Quest'anno verrà ospitato a Mantua, sarà quasi in corrispondenza del Linux Day, verrà ospitato a Mantua dall'ITIS Fermi di Mantua e verrà realizzato in collaborazione con il Lug di Mantua. Una cosa bella di questo convegno è che riesce a riunire università, perché anche quest'anno l'Università di Verona darà il suo appoggio, scuole, e quest'anno verrà svolto al Fermi, ma ha sempre riunito gli insegnanti di scuola, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, associazioni locali, è stato appoggiato negli anni scorsi dal Faber Libertatis, che continua a dare supporto per il sito, e quest'anno anche dal Lug di Mantua, e professionisti, perché cerchiamo sempre di coinvolgere anche i professionisti del territorio e mettere insieme idee e visioni diverse per un confronto. Ecco, quindi questo è un altro appuntamento al di là della Conf SL che volevo ricordarvi. L'altra iniziativa a mio avviso molto importante è che è in via di definizione un protocollo di intesa con il MIUR, un protocollo di intesa per la promozione del software libero e dei contenuti aperti nella scuola e nell'università. Non riesco a dire più di così perché il protocollo è proprio ancora in via di sviluppo e di definizione, però a mio avviso è molto importante perché sarà il modo per appoggiare tutte le iniziative che finora si stanno sviluppando in modo un po' autonomo, locale e anche per l'idea del singolo nelle scuole. Questo sarà un modo invece per dare un po' più di visibilità a tutti i progetti che sono in corso nelle scuole. Dico l'ultima cosa qui io parlo anche per Enza Viccione che non è potuta venire per motivi di salute. Enza era una studentessa di un liceo che era venuta a didattica aperta nel 2010 dall'Abruzzo a Verona con il nonno al convegno si era entusiasmata per il software libero e continua a lavorare ha lavorato al dossier scuola ha aiutato tantissimo per l'organizzazione del convegno e purtroppo non è presente per motivi di salute. Mi piace ricordare anche questa cosa che è venuta con Enza perché ogni anno a didattica aperta arrivano anche studenti che si appassionano che mostrano le loro idee e mi piace dire che non sempre quel che si dice delle giovani generazioni è vero ci sono persone veramente in gamba e geniali e mi piace ricordare tra queste persone anche Enza. Io chiudo qui e lascio la parola a Renzo Davoli per proseguire con la sessione. Buongiorno anche me non sono lucidi è solo una trazza di qualcosa che voglio raccontarvi il tempo è pochissimo le cose da dire sono tantissime creatività e software libero nella scuola vediamo di farlo più interattivo alzi la mano chissà che cosa è il software bene il signore è là ora mi sa la definizione no il signore più avanti si alza in piedi e fa pubblicamente la definizione del software sono un professore quindi devo fare le interrogazioni prego lei 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 controllo più astratto della macchina hardware controllo più astratto delle macchine hardware altre definizioni chi è che si sente di dare un'altra definizione la logica insieme di istruzioni di che cosa è fatto l'hardware cosa? di che cosa è fatto l'hardware secondo voi andate più sul sol sul materia atomi hardware hardware sono atomi il tavolo è hardware questo microfono è hardware fatto di atomi invece il software è ciò che è fatto di conoscenza quindi stiamo parlando della dualità spirito materia che oggi se una volta era solo vista dai filosofi oggi diventa vita di tutti i giorni è certo che questo c'entra come con la creatività la creatività è la capacità di usare l'unico hardware che esiste al mondo capace di generare software la materia grigia è la nostra intelligenza infatti parlo di oro grigio parliamo ci sono fatte guerre per colpa dell'oro nero fra poco purtroppo ci sarà carenza di oro blu l'acqua potabile ma c'è una ricchezza più grande che noi dobbiamo considerare la capacità che abbiamo di generare conoscenza la creatività e questa capacità la dobbiamo generare soprattutto nelle scuole in realtà ciò che sta succedendo è proprio il contrario e ho poco tempo quindi vi lascio degli spunti da andare a cercare sulla rete se non li avete ancora visti guardate i seminari di Sir Ken Robinson le trovate sia in un'edizione delle TED conference conferenze sulla creatività ce n'è uno bellissimo fatto da RS Animate comunque nelle sue conferenze vi invito ad andarle a vedere c'è un esempio che mi ha colpito hanno fatto questo esperimento hanno dato hanno dato come esercizio di descrivere tutte le cose che venivano in mente con delle graffette che cosa si può fare con una graffetta paperclip quella che servono per bloccare i fogli bene lo stesso esercizio dato all'asilo produceva tante risposte il numero delle risposte calava pian piano che gli studenti andavano a scuola e all'università erano pochissime quindi di fatto la scuola invece che potenziare la creatività l'aveva ridotta l'aveva limitata è un discorso di ecologia è un discorso di ecologia l'ecologia è la scienza che studia come mantenere l'ambiente per la sopravvivenza del genere umano bene se buttiamo la creatività noi siamo abbiamo maggiore probabilità di creare dei danni e come si fa a creare problemi ecologici per la conoscenza per esempio dovendo riscoprire l'acqua calda perché perché se un ricercatore ha trovato una risposta geniale che potrebbe risolvere problemi dell'umanità e un altro non lo può conoscere perché quella risposta deve stare nascosta per motivi di sfruttamento economico siamo più poveri se non riusciamo a comunicare bene e quindi ci sono più gruppi che stanno studiando la stessa cosa stiamo sprecando oro grigio esattamente anti-ecologico come sprecare acqua o sprecare energia come si spreca questo per esempio nella scuola si spreca pensando all'information technology apposto della computer science l'information technology è una materia noiosa l'information technology è imparare ad usare dei programmi è imparare a usare degli strumenti non come la computer science insegnare cosa ci sta dietro come funziona purtroppo è una deriva che ci viene imposta da modelli che ci vengono proposti quella di non domandarti come funziona usare quella cosa non è importante sapere cosa succede che se voi sapete della matematica solo i tasti su una calcolatrice siete legati a quella calcolatrice se sapete dell'informatica solo cos'è un word processor siete legati a un word processor se non sapete come funziona un motore a scoppio nel momento in cui vi si blocca nel mezzo del deserto non sapete neanche cosa c'è sotto quel cofano e siete perduti quindi siete alla mercè di altri che decidono che cosa potete e che cosa non potete fare per esempio Chess Unplugged è un libro che ho tradotto e ne parlo pubblicamente perché è rilasciato con licenza Creative Commons e quindi potete scaricarlo regalarlo anzi mi fate un piacere se ne fate tante copie le diate agli amici non è un sono già pagato da voi con lo stipendio mi basta io do quello che posso alla società allora dicevo copiate questo libro ed è regalato lo insegna l'informatica senza computer serve per i bambini che possono imparare gli automati stati finiti giocando a una caccia al tesoro gli algoritmi di ricerca con delle battaglie navali i numeri binari con un gioco di carte guardatelo non ho tempo di descriverlo oltre oggi qua no la scuola dei gadget bisogna rifugire l'idea che la scuola sia fatta di gadget sia da parte degli studenti sia da parte delle istituzioni ci possono essere collegamenti di rete rubinetti nuovi aria condizionata lavagne multimediali ma quelle sono tutte infrastrutture non fanno la scuola potete avere l'aria condizionata migliore del mondo se non avete degli insegnanti che entrano in aula con competenza della materia e soprattutto con entusiasmo che è ancora più importante la competenza della materia voi non avete una scuola avete un edificio avete un parco giochi con belle lavagne questi gadget sono estremamente costosi perché se ci focalizziamo su quelli la vita media di una cosa tecnologica è tre anni quindi tutti gli investimenti che facciamo oggi che tutti si vantano che facciamo questi investimenti sono da buttare via da ricomprare in tre anni le competenze sono a brevissimo termine c'è una dipendenza perché si sa quella cosa lì ma non si sa cosa c'è al mondo e tutto questo genera mancanza di flessibilità il mondo cambia anzi è molto comodo questo perché chi pensa è molto comodo per chi pensa male per chi pensa di sfruttare le persone perché c'è sempre bisogno di rinnovare le proprie istruzioni si diventa macchine e si possono vendere corsi di aggiornamento le persone sono legate bisogna cambiare la visione della società i nostri studenti sono cittadini li dobbiamo preparare come cittadini non come consumatori sono protagonisti della società e loro sono il nostro splendido futuro quindi vogliamo vedere ciò che creeranno loro non ciò che saranno capaci di vedere vogliamo che pensino di essere di avere un ruolo non di poter sfoggiare l'ultimo ritrovato tecnologico o di moda bisogna stare attenti adesso i nostri ragazzi hanno l'illusione della creatività perché possono raccontare tutto quello che vogliono in social network dire più uno o I like it ma il problema grosso è che la loro creatività è come la felicità del criceto che riesce a correre sulla ruota all'interno della gabbia sono in una gabbia non hanno competenza sullo strumento e potranno avere tutta la libertà nel frame che viene dato da chi crea gli strumenti ed ecco software libero conoscenza libera conoscenza degli strumenti perché software libero nella scuola perché la scuola deve includere tutti e quindi se usiamo software libero non c'è chi ha il gaggettino nuovo perché papà guadagna tanto mi posso permettere il software che uso a scuola anche a casa perché o peggio ancora perché io sono furbo io violo le regole io mi copio le versioni di latino a scuola e cose del genere queste sono cose che dobbiamo stigmatizzare e dobbiamo buttare fuori dalla scuola dobbiamo insegnare i nostri ragazzi a collaborare e non insegniamo loro a collaborare dicendo guarda che cos'ho guarda come fa ma devo dire guarda mi metto in competizione ti faccio vedere quello che sono quello che so e allora a darmi pari vinca il migliore ma questa è la vera meritocrazia questa è la competitività bisogna farli protagonisti ok mi fermo qua avrei ancora milioni di cose da dirvi ah una cosa molto importante poi chiudo veramente la creatività si fa dando agli studenti strumenti con i quali possono giocare questo è il raspberry pi chi conosce il raspberry pi questa eh molti si stanno mettendo ancora un secondo ti prego ah mentre noi giochiamo con il gadget in molti paesi si stanno rendendo conto del problema io ho visto Gordon Brown alla BBC andare a dire non insegniamo information technology insegniamo computer science il problema è che oggi i nostri ragazzi hanno dei computer che sono dei simulacri intoccabili perché mio dio se installa un po' di software crolla tutto non riesco a fare le cose sono macchine costose questo è un computer da costo di 35 dollari l'ho pagato 27 euro e mezzo e un ragazzo qui può fare tutti gli esperimenti che vuole a cuor leggero non è si vuole tornare all'epoca dei Commodore degli Apple 2 è la moderna edizione dove si può giocare i ragazzi devono giocare non devono ripetere a mena dito ciò che dice l'insegnante devono giocare qua si gioca ragazzi ok grazie 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 a tutti.